ok dunque re dei ratti su bg ma dove la duo non è ma non penso ci sono tac e swag che giocano stanno tipo 7000 in duo e non mi hanno detto questo in realtà la domanda è cosa prendi qui la spell da 1 ti fa piacere con re dei ratti ma la domanda ieri oltretutto re dei ratti primo posto abbiamo fatto vabbè tralasciando questo what would we like to take here bro lui è forte vero e lui è buono cazzo però non lo devo giocare ora lui è buono perché io posso tirappare gioco lui faccio la spell poi faccio hp compro e il turno dopo quando sei gold dopo costa 4 tirappare posso fare hp a 2 è sontuoso prenderò danni qui perché questo avrà il 4 a 5 i guess o questo però secondo me è buono ma secondo me giamba sofia che si sta un po' gasando dicendo che ci sono i cinesi per autogasarsi eh oddio non è male sta roba però c'è anche da dire che i drop a 1 sono un po' obrobriosi capo secondo me da pigliare sono un po' da pissi bro il sir lewis mica che sfiga però sta roba porco dio però o saranno coreani o quel cazzo che c'è c'è goddio boh non lo so vecchio se ci stava a pigliare la coin non voglio di prendere danni a caso mi sto un po' rompendo il cazzo vado forse non era da fare sto coin però avendo giocato il mozzo ro tirappi ro power pulito quindi forse non era da usare quel coin per la spell ma vengo punito classico però c'è lui non so meglio ha meglio altro secondo me è meglio coppia coppia coin spell oh questo è meglio secondo me qua guarda che se questo è una tripla huge bro ma giamba secondo me si è fumato un troncone per scrivere certe cazzate stamattina cioè è fissato sei fissato con i cinesi cioè non lo so sono un attimo cioè nel senso poi se sono cinesi cinesi vero e l'inglese manco lo sanno loro perché cioè è completamente fuori porco dio minchia bro ma era qua sarebbe da tirappare bro però non lo so mi mando una foto può andare bestie mi sembra un po' su scappo sto fermo così beccarsi lui ora è una palla perché questo era grosso probabilmente porco dio però mannaggia ragazzi è da uccidere quel tipo questo sicuramente non è male merda sta triple mamma mia bro mamma mia sta taverna sta roba non so se fosse da triplare qua o da farle il turno dopo sincero bo non sono per nulla sicuro di questa giocata però e questo è OP però mamma mia merda ragazzi sta roba è disgostosamente forte forse forse chimera meglio qua del resto forse doppia chimera huge però sta roba è disgustosamente buona sì è vero ci sta questa davanti qua ora ora hai ragione ora con due chimera ci sta anche questo forte qualcuno in chat che effettivamente al tento del game scrive una roba sensata assurdo incredibile bro quasi incredibile quasi qualcuno che non scrive cazzate tipo che incontra 800 cinesi diversi ogni lobby che fa di battlegrounds di Okan assurdo veramente incredibile cazzo prendo lui almeno posso unire a queste vero ora mi spara ora mi spara il papiro esatto minchione ora se la prende sul personale il giambiante minchia ragazzi minchia 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 secondo me è buono tauntare loro però forse in sto caso taunterei più lui quasi ha mai senso vendere lui i coin per la spell non penso sto fermo così qua è ok sta roba un sacco di gold dopo vado al 6 ma mi hai detto guarda telegram cioè cosa vuol dire guarda telegram hai messo una foto tua nel gruppo telegram che ti stai fumando una canna cioè non hai messo una foto dei cinesi che ti contattano da Beijing cioè non so se capisci la differenza cazzo cioè boh cioè boh veramente c'è ha senso pigliare lui ma cioè sono 2.6 però la manageri di quel pazzo del tanderiante allora vediamo perché il cliff mi garba tripla peggiore che potessero uscire di obbediato oh madre vabbè prenderò il toro però 2 palle però vorrei fare una manageri ma questo è forte ma non è una cagata giocca a Railac qua oddio cioè procca lui però tanto ce l'ho già da qua le monete da qua hai iniziato anche tu poche roghe hai fatto bene bro perché il naz questa gli dà divine comunque questa fa un danno a tutti e palle perdere sto fight capo minchia veramente boh vabbè se ne buona hit perdere sto fight è una rottura di cazzo minchia ma che è sta roba oh bro ok non ok destra please wow veramente perdo perdo con sta roba t8 minchia merda ma è illegale sta cosa capo per prendere danni con sta roba t8 penso sia proibito cioè che cazzo è sto scamo è disgustosa sta roba che cazzo è prendere danni con sta roba turno 8 follia pura ma questo è forte socio però non lo so se pigliarlo perché questo è forte però non sto andando in quella direzione al momento lei la prendo penso mi potrà andare un 6 umano mamma mia sta roba è devastante so se pigliarlo mi potrà so se pigliarlo Alla prossima Ho preso l'hyper non mi serve 3 oro Cos'è il peggio? Forse il toro? Questo è forte Questo deve saltare forse anche Stara Cioè Stara è forte però è Buongiorno Questo Come devo ciclare Stara qua? Forse devo saltare lui Speravo di trovare Questa è OP Dopo salta lui penso Merda però Cioè non lo so se farò saltare già ora per Stara è più forte Però cazzo sono forte su board io Perché qual è il discorso socio? Se ne senso Se lo faccio saltare ora sono più forte su board io Però poi perdo delle monete per il turno dopo Sono sopra il cap Gli altri sono forti Cazzo su board mi sorprenderebbe Perder qua Ok Cioè perché dico questo ne ha tirati prima l'altro Però minca se perdo con sta roba T10 Vuol dire che deve essere uno che non so che cazzo abbia fatto Cioè sta roba T10 è È disgustosamente OP Stiamo molto vicino alla top 10 Vediamo Buono Ed è un momento Non posso che ho delle robe di lavoro da fare Minchia dopo si spacchetta Si gode Ma sta roba dei cinesi Quindi era vera o non era vera Che non ho mica capito io bro Ti dico la verità Non ho mica capito se era vera o non era vera Sta roba dei cinesi Ok Ah no era una stronzata ok Confirmed quindi Questo è grosso Eh questo è grosso cazzo Era quello che era già forte prima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Perchè ho preso lui? Forse non era da pigliare sta roba Non è vero? Solo che dopo cosa salta bro? Non dovrei morire qua penso Metti che anche giga è grollato con Mac Dovrei comunque doggiare Positioning like this Is that ever the play bro? Cioè il turno dopo cosa salta? Salta Stara in caso che la devo ciclare Perchè le Nala non possono saltare Perchè poi mi overscalano altri Se faccio saltare le Stara Ma questo ok non ha i deflecti lo distruggo Pensavo avessi deflecti questo Nice Bella Petra e buon di capo Com'è? Don't you worry Dai che questa la vinciamo Cazzo Forse Non lo so Questo mi spaventa un po' Io ne ho presi 11 Questo mi spaventa un bel po' Anche posso dire Vediamo vediamo Viverebbe anche il tipo che fa un danno a tutti Forse non è male Non lo so Ho visto robe forti A sto punto dopo non mi serve quello che fai danni a tutti Prendo sta roba La cosa brutta di sto turno è che non tiro praticamente delle spell Cioè sta play la devo fare forte Non sono i giga buff Vabbè vediamo Ma perchè il Bologna aveva festeggiato in settimana Pensavo fosse finito Poi quest'anno in realtà l'ho anche seguita poco la serie A Ti dico la verità Stasera sono gasato perchè c'è la Oggi pomeriggio c'è la C'è la roba C'è la Le qualifiche Che sfiga state di Okane però Ci sono le qualifiche del Del GP Monaco Hai visto Minchia assurdo Si chiama personalità Avere ancora l'albero giù Questo va a casa L'altro mi sembrava Mi sa che è meno forte di lui Non lo so Vediamo Questo a casa Mi fa molto piacere bro Perchè questo era scomodo Dell'altro muore dal morto Ed è un first place E' un'altra muore dal morto 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 E' un'altra muore dal morto